E' stata aggredita e scippata mentre stava andando in chiesa per sentire la messa. Una donna anziana è stata derubata da un giovane a Trebisacce nel Cosentino che, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima tentato di strapparle la catenina d'oro dal collo, strattonandola e facendola cadere a terra. La donna, a causa dell'aggressione, ha riportato diverse ferite ed un trauma cranico accertati dai sanitari del pronto soccorso di Trebisacce, dove è stata trasportata. Lo scippatore, secondo quanto ricostruito, era insieme ad un altro complice. L'anziana donna, sotto shock e dolorante, ha chiesto aiuto ai passanti che hanno subito allertato i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto per tentare di risalire ai responsabili.